Per un bambino che nasce in Calabria, l'aspettativa di vita media è di 81,3 anni, ma la speranza di vita in buona salute è di 54,4 anni, la più bassa del paese, con un divario di 12 anni rispetto alle province di Bolzano, che ha la più alta di 67,2%, tra le bambine la forbice è tra l'altro ancora più ampia, 15 anni in meno rispetto al Trentino. E' uno dei dati che emergono dalla tredicesima edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, come stai di Save the Children. La Calabria, secondo il rapporto, è la regione con il più alto tasso di mortalità infantile, 4,42 ogni mille nati. Sul fronte sanitario, nonostante il crollo demografico, con meno di 400.000 bambini in media nati nel 2021, 7,1 i bambini nati ogni mille abitanti in Calabria, mancano 1.400 pediatri di base e la media dei bambini under 14 assistiti per pediatria è pari a 826 in Calabria. La Calabria ha anche la spesa pro capite dei comuni per servizi alla prima infanzia più bassa, circa 110 euro, così come la percentuale di bambini sotto i tre anni che accede a silinido pubblici e convenzionati.